Sto guardando l'avanti in peggio Anna Ma c'è Anna Pogba Back into the middle Asuh lawante bayi, cengucingan tak ish ni Senggoldi bro Pogba 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 Great effort He flew in with courage Igalo may have slightly misjudged the timing But there is nothing wrong with the intent Nice to get it forward quickly Griffiths In with the challenge Pogba Asuh Igalo Rogic Rogic Griffiths Rogic Good challenge He just stood firm Igalo 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 Vai troppo! hai marito main moinsase che ced manco gel 높ongan Robo yes Oh, neerly, ma neerly è niente. Igalo, sicuramente potrebbe, e dovrebbe fare più di più. Va bene bene per intervenire. Rogic. Sì, sì. vai trus kakek aneh per la defensa la confidenza che possiamo admiare la decision-making, non possiamo ha aprenduto da questo si sentiamo ok ora è il Carlo è il Carlo un'escalante gioco è in gol è un gioco Pogba è Lingard e adesso è Marcial i miei che hanno giocato più medio di pancare Eccolo e has got flu to him wait to drop so asus keeps everyone guessing he's got options out wide heee masus di pray il momento in cui si è in situazione, ciò che puoi fare è mettere la mano con il giro, perché è stato fantastico il giro non è un giro Pogba Pogba E' sempre la città Torno Quanto fa? Perciò che la che si fa Cosa? Si siano malvito a che bisognava di erratare la inventività E' tutto si scoppi Si si inserì Perciò si siente Griffiths Si stia passando il suo cibo bambini dansol e l'e l'alato apparet siti nghebut pelanggarani siti nghebut pelanggaran e 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 Sì, questo è top defending in preventing in turning che può aprire molte possibilità Questo è il truppo Lindorof battaglia per venire Buon ruolo, ultimamente thwarted da un'estute pezzo di defending Il crowd aprecia buon fottobolo all'round Chet Ma non era pelagare né Senti Linguard Is Abang Z, Abang Z Abang Z Ih, Radhi Kertoi Low roll lho Ayo pot Ih, yes Cool T'acca da ora, 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 Ketan T'acca da ora, cool T'acca da ora, cool è un po' di più è un po' di più è un po' di più Ah, now some movement on the bench And we are going to see a change That's another throw Good take and he's had a look And it's got Yes, that's another throw A two goal person And it's looking safe That was easy Almost too easy And that's what the game is all about Light space and finish You have to grab the basket To pick a note Oh, it's inspired substitution Terrific move by the boss That's how you make an impact as a son You know, when most retirees You can impose a freshness and energy The best effect What an introduction That's how you make an impact as a son So that's two now without reply Wow, unsurprisingly Peter The opposite It's called it It's a three king A three king My W trolley Hmm, what is that? I can answer That's how I got A three king A three king A three king An parler Is a Twitter I can answer A three king map You know He's doing Over Manchester United ha scoperto due golsimi qui, e sono benissimo e davvero in la sede di driving. Chiaia... E? Rippets! Una reale chance, e una reale ruota. and it's played forward who's gonna get there and here's Rashford it's Juan Mata so she can tangan her forward it goes it's not to be moved Juan Mata so Krona to 4 4 4 4 hai group 3 26 tue hai c'è un'ultimo di 4 minuti additional time c'è lascia c'è c'è non è che c'è un po' ok ok ok, li hanno preso ok è stato per la scuola è un po' felice si stavola www.mesmerism.info Grazie.